Ben trovati, siamo a Stama Manifattura, la quarta edizione di Extra, il turismo che si espande anche in una fascia molto interessante. Il progetto è stato presentato oggi, siamo con il presidente di Extra. Battelli, una nuova esperienza che arriva da lontano? Sì, una nuova esperienza che arriva da lontano, questa volta dopo la pandemia che ci ha fatto fermare per tre anni, ripartiamo alla grande con un evento voluto dall'assessorato con numeri molto interessanti. Abbiamo più di 2.500 iscritti, 95 espositori che si presentano a questo mondo con tutti i più importanti tour operator, hot online, sistemi dell'arredo, property manager, insomma veramente un tre giorni ricco di contenuti e di informazione e informazioni per il settore. Una struttura come questa che dà la possibilità di avere una logistica molto comoda e dinamica? Sì, l'evento sulla manifattura l'abbiamo scelto perché ha questa sua dispersione in un posto di grande fascino storico della città, comprerò delle belle sale, una bella attrezzatura, poi meno male abbiamo tre giorni di sole e quindi tutto molto bello. Grande successo di presenze, quello che sia previsto è avvenuto, la gente è proprio a voglia di informazione e formazione che sono i due temi cardini di questo settore. Come ho già detto era un appuntamento molto sentito, voluto, la regione Sardegna ha voluto finanziare e stare proprio a supporto degli organizzatori proprio perché è un settore che sta crescendo, che sta dando grandi risultati economici e soprattutto sta dando spirito di accoglienza, sta fornendo posti letto, altrimenti tutti questi 3 milioni di presenze in più che abbiamo già ottenuto, che sono un anno veramente dal record, non si sapeva dove fare dormire. L'ex alberghiera è un valore aggiunto che si completa l'offerta alberghiera, ovviamente va fatta poi la lotta al sommerso e al nero, ovviamente con tutte le altre istituzioni preposte. Sono molto soddisfatto, i risultati daranno i suoi frutti, quindi vorrei ringraziare chi ha organizzato tutto ciò, tutte le persone che hanno partecipato, possiamo sempre migliorarci, gli suggerimenti che ci sono stati dati li coglieremo e ci miglioreremo nelle prossime edizioni.